Questo che voglio farvi vedere oggi è un libro piuttosto raro che abbiamo acquistato su ebay qualche anno fa. È un libro che mio nonno Fosco Maraini aveva pubblicato in Giappone nel 1942 e che presenta una selezione di foto da lui scattate in Tibet qualche anno prima. Il libro si chiama Lontano Tibet. Lui aveva viaggiato in Tibet nel 1937 a seguito di una spedizione accademica italiana guidata dal professor Giuseppe Tucci, orientalista. In quel momento Fosco ha 25 anni. È marito, è padre, però è animato da un grande desiderio di avventura e desidera scoprire nuovi orizzonti. Da ragazzo si tuffa nei racconti di audaci esploratori e cresce con il Tibet negli occhi, nelle orecchie, nel cuore come lui stesso scrive. Ogni volta che sente parlare del Tibet pensa anch'io, anch'io, ci devo mettere piede anch'io. Leggenda vuole che un giorno, asciugando gli scarponi, in seguito a un'arrampicata alpina, Fosco nota un trafiletto su una carta di giornale che riporta la notizia dell'imminente spedizione. Allora fa in modo di contattare il capo della spedizione e il resto diventa praticamente storia. Giuseppe Tucci decide di portarlo con sé, vista la sua conoscenza del mezzo fotografico. Tucci aveva senz'altro bisogno di arricchire con una documentazione visiva i suoi studi sull'arte sacra tibetana e Fosco aveva colto forse la più preziosa delle occasioni. Il Tibet di quegli anni è una terra remota e quasi sconosciuta agli occidentali e appare a Fosco come un gioiello incastronato tra i monti, un luogo incontaminato dove i lama buddhisti hanno mantenuto intatte tradizioni secolari. Fino a quel momento sono pochi gli esploratori che hanno superato le barriere naturali che circondano questo paese e Fosco ha quindi il privilegio di accedere a una natura, una cultura pressoché intatte. Fin da subito si appassiona agli orizzonti del Tibet ma poi soprattutto alle persone con le quali impara presto a comunicare in tibetano. Inizia a fiorire visibilmente l'interesse fino ad allora coltivato sui libri per l'antropologia, per l'etnografia che diventerà nella sua vita sempre più concreta. Il suo desiderio di conoscenza del mondo, la sua innata capacità di andargli incontro trovano nella fotografia una naturale alleata. Infatti i suoi scatti non sono di semplice documentazione ma aprono spazi di indagine appassionata dove con il tempo lui saprà fondere immagini e parole per descrivere la condizione umana. Nel libro è presente una nota tecnica sugli strumenti fotografici che aveva con sé nel viaggio e con sé aveva due corpi macchina, una Voigtlander medio formato e una leica 35 mm che aveva vinto l'anno prima al concorso nazionale indetto dalla Ferrania, che è una storica casa produttrice di pellicole e materiale fotografico. La stessa leica lo accompagnerà per anni in tutti i suoi viaggi dal Tibet al Sikkim, al Giappone, all'Indukush al Karakorum. E con sé ha anche una serie di pellicole agfa, rulli di 5 metri per la leica, oltre a una miscela di liquidi a base di metolo, idrochinone per lo sviluppo dei negativi e polveri, soprattutto magnesio, che lui faceva, doveva far brillare con una pietra focaia proprio nell'istante dello scatto. Tutto questo sa molto di fotografia, direbbe Fosco paleolitica, ma è lì che si esercita il suo intuito e che si affina la sua arte, proprio fotografando le statue di Buddha nei templi, sviluppando i negativi al buio della tenda, nelle notti al silenzio degli altipiani rocciosi, proprio sciacquando quei negativi nelle acque gelide e cristalline dei fiumi dell'Himalaya. Sono circostanze straordinarie e difficili, se non addirittura estreme, che però hanno contribuito a forgiare la mano e la sensibilità del fotografo, rendendo queste immagini uniche.